Amici di In Tre Minuti sono in compagnia di Giuseppe Lauricella, del professor Giuseppe Lauricella, presidente dell'Uni3 di Canicati. Professore, vogliamo dire ai nostri amici di In Tre Minuti che cos'è l'Uni3? L'Uni3 è un'associazione di... è l'università delle tre età. Infatti sotto la nostra egida si riuniscono persone, soci di tutte le età. Abbiamo soci di 30 anni, abbiamo soci di 92 anni. Le attività attraverso le quali la nostra azione si estrinseca spaziano dalla medicina, alla cucina, alla cultura popolare, all'arte, alla letteratura, alle lingue. Noi ci riuniamo tre volte la settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì e trattiamo di questi temi attraverso l'azione molto incisiva di diversi oratori che vengono anche da fuori zona per venire ad illustrare ai nostri iscritti le materie di loro competenza. E devo dire che i nostri iscritti che quest'anno raggiungono il raccordevole numero di circa 150-160 iscritti hanno una presenza assidua di circa 90 soci ogni incontro. Per cui dobbiamo dire che la nostra attività è molto benemerita perché nella zona attiva le intelligenze, attiva la socializzazione, attiva la cultura e come è il nostro motto diciamo che l'Uni3 aggiunge anni alla vita. Da quanto tempo ha preso la presidenza? Questo è il mio terzo anno, valenti presidenti che mi hanno proceduto hanno portato avanti sempre questa nostra dottrina, questa nostra linea di condotta per cui io nel solco dei miei predecessori, il professore Giuseppe Carlino, l'avvocato Carmelo Ciaciacanezzaro e il presidente Gaetano Augello ci sforziamo, ci siamo sforzati sempre di portare avanti questa nostra battiera anche perché vediamo che la risposta da parte dell'utenza è molto positiva. Grazie a tutti. Grazie a tutti.